Chiusura di mezzanotte. L'ordinanza del governatore Cristian Solinas, apparsa in piena notte, proroga la serrata di librerie, cartolibrerie, negozi per bambini, almeno fino al 26 di aprile, ribaltando così il decreto del Premier Conte che ne disponeva invece l'apertura da oggi. Stesso destino per gli studi professionali, ancora sbarrati all'ingresso del pubblico per altre due settimane e per le spiagge interdette nello stesso arco temporale. Un provvedimento frutto della consultazione con i quattro saggi del Comitato Scientifico Regionale. In Sardegna il picco dei contagi, secondo gli esperti, non è ancora stato raggiunto e le restrizioni vanno mantenute. Ma la situazione viene vagliata giorno per giorno, come sottolinea lo stesso Solinas. Quando ci saranno evidenze scientifiche che ci consentano di riaprire, lo faremo. Intanto arriva un giro di vite sui dispositivi di protezione. L'ordinanza prescrive infatti l'obbligo di mascherine e guanti monouso dentro gli esercizi commerciali, aggiungendo che devono essere mantenuti per l'intero periodo di permanenza all'interno della struttura. Altre serrande abbassate, stavolta prevedibili, nei giorni festivi del 25 aprile e del 1 maggio, i negozi, prescrive il Presidente della Regione, rimarranno chiusi. Magli più larghi, invece, per l'attività motoria e strettamente personale, si legge nell'ordinanza, consentita nelle immediate vicinanze della propria abitazione, con il rispetto delle distanze minime di sicurezza e comunque muniti di adeguata mascherina. Questo a livello regionale, perché a Sassari, invece, vige il divieto alle corsette, stabilito dal Sindaco Campus.